Buongiorno e bentrovati alla Rassegna Stampa, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Teleruna. Meno due al voto, mancano due giorni alla conclusione di questa campagna elettorale, campagna elettorale che ieri ha fatto di nuovo tappa a Napoli, precisamente in piazza Plebiscito con il leader della coalizione di centro-sinistra Pierluigi Bersani, una piazza piena a metà. Oggi è la volta di Berlusconi, alla mostra d'Oltemare ci sarà poi anche Ingroia che chiuderà la sua campagna elettorale proprio a Napoli al Palapartenope e intanto tutti hanno paura dell'ascesa di Grillo che diventa davvero prorompente. Parleremo anche di cronaca e soprattutto di calcio dopo l'ennesima eurofiguraccia del Napoli ieri in quella di Pilsen in Repubblica Ceca. Ma andiamo per gradi. Prima pagina del Corriere della Sera, in primo piano segnali di sfiducia dai mercati. Giornata negativa nell'Unione Europea, la Banca Centrale Europea ha 103 miliardi di titoli italiani, Borse giù, Milano la peggiore per l'incertezza sul voto, incertezza sull'esito del voto in Italia, calo degli indici di fiducia delle piccole e medie imprese, timori di uno stop agli stimoli da parte della Federazione Americana. Giù le borse in Europa, Milano la peggiore e intanto la Banca Centrale Europea possiede i titoli italiani per 103 miliardi. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Monti, il successo che temo è quello di Grillo e intanto arriva il no di Napolitano alla ricandidatura come Presidente della Repubblica. Prima pagina del mattino, edizione nazionale, in primo piano allarme, governabilità, cade la borsa, tutti i listini in flessione, ma l'incertezza sul voto penalizza Milano, intanto Bersani, la Merkel mi rispetta e il senatore Scebolo tedesco progressi con Monti. Piazza Affari perde il 3,13%, lo spread schizza a 292% e la Banca Centrale Europea dà l'Italia gli aiuti maggiori. In primo piano, dal mattino, PD in Piazza Plebiscito con l'incubo di Grillo, lo anticipavo appunto nell'apertura, mentre il mattino ci propone una foto appunto di ieri di Bersani che parla in Piazza Plebiscito. Ancora politica dalla prima pagina del mattino. Il caso di Giannino è stato un grave errore, ma ha tanti meriti. Oscar Giannino, che ha fatto un errore colossale nel mentire sulle sue credenziali accademiche, lo ricordiamo, ha detto di essere plurialogato, di aver preso un master inesistente. Napolitano non farò il bis al Quirinale, parla il Presidente della Repubblica su una sua eventuale ricandidatura al Quirinale. Rimaniamo sulla prima pagina del mattino all'ovione a Cadania, cittadini sui tetti, un fiume in piena, la centralissima via Etnea a Cadania è trasformata in un alveo pieno d'acqua che ha travolto tavolini, sedie, auto e moto. Lo vediamo qui in foto, è stato davvero bruttissimo, un bruttissimo nubrifaggio proprio a Cadania. Intanto andiamo avanti sempre dalla prima pagina del mattino. Crack del bastificio amato, indagato anche Mussari, nuovo filone nelle indagini della Procura di Sarerno. L'ex Presidente del Monte Paschi Siena è sotto inchiesta con il candidato PD a Siena Cecuzzi per un finanziamento di 20 milioni. Sempre prima pagina del mattino di Napoli, sentenza a Napoli, privacy violata. L'Agenzia delle Entrate distrugga i dati. Il giudice, il redditometro è illegittimo. Lo vedremo proprio a breve nei dettagli, ma cominciamo a guardare quello che più ci riguarda da vicino. Il mattino di Napoli, prima pagina, pioggia di euro falsi, scacco alla gang, scoperta la centrale e un milione di banconoti. In tipografia il poster della banda degli onesti. Banditi in azione come nel film di Totò, due arresti. In Piazza Nazionale e Quartier Generale, anche film di ticket per Malpensa, film di ticket per i viaggi. Pizzo davanti a scuola, la Preside proteggete i ragazzi. È la denuncia che vedevamo anche ieri dalle pagine dei giornali. Ragazzi estorti fuori dalle scuole e anche dagli ospedali. Vengono chiesti due euro per parcheggiare motorini e scooter. Uccisi dal rogo di rifiuti, nel video un furgone in fuga. Lo vedremo poi nei dettagli, la denuncia da parte del mattino. Sempre dalla prima pagina del mattino, Bersani, l'urlo della piazza, vogliamo più lavoro. Da leader stoccata a Caldoro, è un feudatario di Berlusconi. Prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, che apre proprio sulla politica e sulla manifestazione di ieri del PD a Piazza Pellebiscito. La piazza Fischiamonti, folla per il comizio del leader del PD. Il governatore è un feudatario di Berlusconi. Al Pellebiscito striscioni e battute anche contro De Magistri. Si tratta di una piazza profondamente anti-berlusconiana, ma anche fortemente anti-montiana, nonché simpaticamente anti-demagistriana. Un esempio è lo striscione che recitava Nui Nuvulim Scassà, parafrasando quello che è stato il slogan elettorale di De Magistris per la campagna elettorale al municipio di Napoli. Il PM di Salerno indaga su Mussari, l'ex presidente del Monte Paschi di Siena sarà ascoltato. Parliamo di Salerno come a Siena, il Monte Paschi di Siena diventa un caso su cui indagare. La procura di Salerno è scritto nel registro di indagati, l'ex presidente del Monte, Giuseppe Mussari. Noi andiamo avanti, sempre dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Smog ignorato il divieto in molte zone della città, traffico comunque in tilt, i vigili. È difficile informare tutti sull'estensione del provvedimento, tanti napoletani non erano a conoscenza. E ancora dalla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, il K.O. degli Azzurri fuori dall'Europa, il Vittoria Pilsen rifila altri due gol agli uomini di Mazzarri. Ma andiamo a vedere nei dettagli quelli che sono gli episodi in primo piano, partiamo da quelli visti sulla pagina del mattino. Ovvero euro e passaporti nel cavo dei falsi sono stati presi due tipografi, nascosti in auto 600 mila euro, nella stamperia anche ticket per le navette di Malpensa. Approfondiamo questa notizia con un servizio che ha preparato la nostra redazione e chiedo alla regia di mandarlo in onda. Trovati e sequestrati dalla polizia soldi, titoli di viaggio, carte di circolazione, passaporti, permessi di soggiorno, carte d'identità, tutti falsi per un valore di circa 2 milioni di euro. Il materiale era in parte stato sistemato in una tipografia che risultava dismessa dal 2000 in via Tomaso Blanc e in un'auto alla periferia della città dove erano nascosti 4 borsoni contenenti migliaia di banconote di 20 e 50 euro. La stamperia che secondo gli uomini della squadra mobile di Napoli avrebbe ripreso la sua attività in maniera illegale da qualche anno. L'attenzione degli investigatori è stata colpita dalla grossa produzione di titoli di viaggio validi per le aree della Lombardia. È stata trovata al centro di Napoli una tipografia abusiva, era dedita al confezionamento di banconote in euro di diversi tagli e anche direi soprattutto di titoli di viaggio, documenti vari, libretti di circolazione, permessi di soggiorno e quant'altro. Sono stati tratti in arresto due persone incensurate che esercitavano questa attività chiaramente illecita ed erano stati, erano comunque dei tipografi. Nella stessa giornata di ieri, sempre al centro di Napoli, è stata trovata un'autovettura sequestrata con all'interno diversi borsoni pieni ancora di banconote falsificate. Ma questo è il periodo del Napoli. Lavorano nei campi, i servizi sociali sono completamente assenti. Ancora mattino, voci e sospetti nel Palazzo delle Nebbie, politici, tecnici e vigili e impiegati, cinque anni di inchieste e di arresti. Mentre si parla tanto di campagna elettorale, l'ultima ombra sulla gestione del Comune di Giuliano. Dal 2008 a oggi le inchieste della magistratura hanno disegnato una rete di contatti imprenditori, vigili urbani e dipendenti comunali sugli abusi edilizi, un commissario amministrerà la città, ma c'è il rischio scioglimento e rinvio delle elezioni per infiltrazioni camorristiche. Ancora mattino, vuoti e favori al telefono, gli ordini del boss succede, parliamo ancora di Giuliano, nove in manette nelle intercettazioni, i nomi di politici e affari dei clan. 30 gli indagati, 9 gli arrestati nell'inchiesta condotta dal capitano Ultimo del Noe, coordinata dalla DDA di Napoli. A 4 persone l'ordinanza è stata notificata in carcere. Noi intanto cambiamo pagina, rimaniamo sempre sul mattino. 4 delitti per garantire pace tra i clan, tra le vittime un netto urbino e al funerale del boss aveva detto E' morto, non mi dispiace per niente. Sempre dalla stessa pagina del mattino, una vedova testimone chiave, Airas Anelli d'oro con diamante, mio marito era sereno, sono stati gli amici a vendere la sua pelle. Ancora avanti con la nostra rassegna, dal Corriere del Mezzogiorno, finisce all'asta il tesoretto della Camorra, all'asta i gioielli della Camorra, nella sala del Arengario del Tribunale di Napoli. Sono stati rivenduti alcuni preziosi confiscati nel corso degli anni a clan come il Giuliano di Forcella e Largo di Pianura fino a Ras della Droga di Scampia. Il mattino, pizzo a scuola per parcheggiare, scatta l'inchiesta, lo vedevamo ieri dalle pagine dei giornali, continua il caso dei parcheggiatori abusivi. Corso Malta, due istituti sotto assedio degli abusivi, ma finora nessuna denuncia. Parla anche una preside, dalla stessa pagina del mattino, soldi a me non osano chiederle, ma i miei studenti vanno tutelati. All'intervista a Rita Vagano, preside del Ferraioli, molti ragazzi sono anche lavoratori, è ingiusto che subiscano estorsioni. Continuiamo sempre con il Corriere del Mezzogiorno, crack pastificio Amato, inchiesta su MPS Montepaschi Siena. Salerno è indagato Mussari per un finanziamento alla società dell'imprenditore. Giuseppe Mussari, ex presidente del Montepaschi, sarà presto interrogato dai giudici salernitani, per lui l'accusa di bancarotta fraudolenta nell'ambito del crack del pastificio Amato. Ancora avanti, sempre Corriere del Mezzogiorno, lo vedevamo in prima pagina, nuova ordinanza anti-smog ignorata quasi da tutti, pochi controlli, i vigili, molti non lo sapevano. Intanto dalle foto possiamo vedere il fotoreportage di Corriere del Mezzogiorno, il traffico normale via Salvador Rosa alle ore 18.30, via Marina alle 19.00 e alle 18.30. Continuiamo, andiamo avanti, boom influenza 150.000 a letto, vaccinati solo il 60% dei napoletani a 20 diritto, picco di malati, ma a Napoli è in controtendenza, i medici di famiglia solo 14 visite domiciliari ogni giorno. In Italia sono Marche e Lazio le regioni più colpite, i più colpiti sono soprattutto i più piccoli, nel resto d'Italia la sindrome è comunque in calo. Ancora avanti con le pagine di cronaca, il cane che sta peggio è il cave canem, parliamo degli scavi di Pompei, il celebre mosaico quasi cancellato per restaurarlo, basterebbero meno di 102.000 euro per censire in andaggi. Pompei, il celebre mosaico quasi cancellato dall'incuria, ancora in primo piano l'accelerata gestione degli scavi di Pompei, ieri abbiamo visto che per censire i cani di andaggi all'interno degli scavi erano stati spesi oltre 100.000 euro, ne basterebbero molti di meno per restaurare un'opera d'arte. Noi cambiamo argomento, cominciamo a parlare di politica. Abbiamo visto in apertura il comizio di Bersani, ieri a Piazza Plebiscito, lo vediamo nei dettagli. Escludo un governissimo, ha detto Bersani, avremo i numeri. A Napoli, ultimo appello a chi vota Grillo, attenti ci porta fuori dalla democrazia, mentre qui lo vedete sventolare la bandiera del PD. Prima del gran finale, tappa a Salerno, omaggio a De Luca. Il sindaco di Salerno elenca i successi, siamo la dimostrazione che al sud si può fare bene. Per il nuovo governo, il primo cittadino rivendica il ruolo di portavoce della Campania. Rimaniamo sull'argomento dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno, Bersani, Caldoro e il feudatario di Berlusconi, Striscioni, Contromonti, il Cavaliere e il Sindaco e in piazza Spunda di Donato. Sette persone con megafoni e striscioni invitavano a non votare, sono state identificate dalla DICOS in piazza Plebiscito, poco prima del comizio elettorale del segretario del PD Pierluigi Bersani. I sette sono stati condotti in questura, verranno denunciati per disturbo delle attività di propaganda elettorale. Altri 20 giovani dei collettivi studenteschi sono stati sorpresi a disturbare la manifestazione del PD. Disturbatori in piazza. Dal taccuino elettorale andiamo a vedere gli appuntamenti per oggi della campagna elettorale. Sarà Berlusconi a Napoli, oggi pomeriggio dalle 17 al padiglione 5 della Mostra d'Oltemare. Questa emittente trasmetterà la diretta. Ci sarà Ingroia tra i big che stasera alle 20 al Parapartenope chiuderà la sua campagna elettorale di rivoluzione civile. Andiamo avanti. Plebiscito il popolo del PD con l'incubo dei grillini. Grillini che cominciano a far paura. Siamo 40 mila, possiamo vincere. E sono stati denunciati alcuni disturbatori, come vedevamo prima dalla pagina del Corriere. Ironia sul sindaco, non vogliamo scassare, ma siamo invece quelli che vogliono soltanto aggiustare il paese. E poi serpeggia la paura per l'esploit del Movimento 5 Stelle. Vuoi vedere che restiamo fregati, grillati di nuovo? È la denuncia appunto sul palco di piazza Plebiscito. Intanto l'Oscar delle bugie, sempre in primo piano dal mattino, dopo il falso master Giannino, smentito anche da Mago Zurli, un episodio curioso, il giornalista non ha mai preso parte al Zecchino d'Oro. Continuiamo la nostra rassegna. A proposito di Grillo, un milione in piazza San Giovanni. Verso Roma, 200 bus targati 5 Stelle, imbarazzi per un condono dell'ex comico. Ex comico che fa davvero paura. Ha scelto di chiudere la sua campagna elettorale in una piazza che è stata sempre simbolo della sinistra. E si aspetta il tutto esaurito in piazza. Antagonisti e delusi degli arancioni. A proposito proprio di Grillo, a Napoli il Movimento 5 Stelle sbarca nei centri sociali. Officina 99 conferma il rifiuto della scheda, ma ammette i grillini. Ci sono molte affinità. E credo che bisogna andare con calma e cauti su questi argomenti. Officina 99 notoriamente di sinistra. Non voterebbe mai i grillini che in un certo senso hanno stretto un accordo anche con Casa Pound. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno. Quei referendum su Governatore e Sindaco. Le politiche di domenica e lunedì assumono in Puglia e Campania. Un significato che va oltre. Ecco come e perché. In primo piano, Vendola e De Magistris. Vendola debutta come leader nazionale per la prima volta in un test che si profila importante, anche sul suo ruolo di amministratore. È facile predire che lunedì SEL non raggiungerà le cifre del 2010. Se lo aspica anche Vendola, che dice al di sotto del 7-8% sarebbe uno schiaffo. Mentre quanto riguarda De Magistris non è candidato. è ottimista, ma se Ingroia non raggiungesse il quorum anche a Napoli sarà un vero e proprio flop. Ingroia punta tanto su Napoli. L'ex PM sotto il 4% sarebbe una sconfitta per la lista. Il 6 sarebbe ottimo. Tra il 4 e il 6 sarebbe un buon risultato. Grillo che infastidisce anche Ingroia dal punto di vista dei risultati elettorali. Berlusconi, ultimo assalto. 150 pullman per i supporter. L'ex Premier ha la mostra sulla mobilitazione e l'ombra del forfè di Cosentino. Campania ambilico al Senato. La carica al partito per combattere i centrosinistri. È proprio questa indecisione al Senato. I tanti indecisi che si aggirerebbero anche una percentuale intorno al 15% addirittura costringono tra virgolette i big della politica e i leader a chiudere la campagna elettorale proprio in Campania che è un po' lago della bilancia soprattutto per la corsa a Palazzo Madama. Il giudice, il redditometro è illegittimo. Sentenza del Tribunale, lede privacy e libertà individuale. I dati sono assolutamente da distruggere. Assurdo verificare se preferiamo il vino o la birra. Si entra perfino nei dettagli della vita sessuale e del consumo di medicinali. È la denuncia appunto del Tribunale di Napoli che ha dichiarato illegittimo il redditometro. Noi riprendiamo la nostra segna cambiamo argomento e cominciamo a parlare di sport lo facciamo dalla prima pagina della Gazzetta. Occhio Milan, l'Inter è viva doppietta di Guarin, poi il sigillo di Benassi molto bene al Varets, Ranocchia si fa male il derby a rischio adesso c'è il Tottenham in primo piano c'è Allegri la rivincita di Allegri dall'ombra di Pep Guardiola al bel successo in Champions così ha conquistato tutti e Paolo Imaldini lo applaude ha gestito un cambio epocale Montolivo è super la vittoria contro il Barca entra tra le dieci perle dell'euro storia rosso-nera un Milan che sembra davvero trasformato un Allegri che sembra aver ripreso la sua strada e aver ricambiato di nuovo il Milan che sembrava davvero a pezzi avanti Lazio c'è lo Stoccarda il Napoli è fuori tutte le due italiane Inter e Lazio passano il turno il Napoli esce fuori dopo la bruttissima figura di ieri noi andiamo avanti con la prima pagina del mattino prima pagina sportiva la resa Napoli KO ciao Europa non riesce l'impresa dopo lo 0-3 subito all'andata eliminazione a seticesimi non riesce l'impresa ma il Napoli rimedia addirittura un'ennesima brutta figura perdendo 2-0 azzurri umiliati dal Vittoria mai pericolosi e sbilanciati così il Pilsen segna due volte e Amsic il tifo davanti alla TV a Udine però ci sarà noi andiamo avanti prima pagina per quanto riguarda lo sport del corriere l'Europa si perde nel gelo il Napoli non riesce nell'impresa e Vittoria fa due gol in contropiede ora resta il vertice del campionato è quello che resta al Napoli dopo l'uscita sia dalla Coppa Italia che dall'Europa League la partita è in quattro domande Insigne si muove meglio nel tridente l'attaccante è meglio abituato alle tre punti si muove con maggiore disinvoltura succede però che soprattutto nel primo tempo della partita è spesso chiamato a sostenere un centrocampo lento in difesa e una difesa scoperta dalle incursioni di Gavessari si sfanca troppo e perde con credenza sottoporta nel secondo tempo Giugere ha deluso moltissimo giusto non far riposare Cavani Mazzari e la squadra credevano nell'impresa il tecnico avrebbe volentieri risparmiato il Matador che è stato anche ammonito e salterà la prima partita dell'anno prossimo di Europa sperando che sia una partita di Champions con la maglia azzurra centrocampo all'altezza ma si è rivisto soprattutto quando è entrato Inler Donadella e Gemail insieme hanno deluso dalla delusione allo sprint in campionato è quello che resta a Napoli per raddrizzare una stagione che comunque sta andando bene prima pagina del Gazzetta edizione campana Napoli rialzati subito la Juve già ti aspetta Tesantis non siamo riusciti a sbloccare subito la gara Pandev era dura lo sapevamo ora sotto con il campionato e la foto degli azzurri che escono a testa basta da questa Europa League noi andiamo a vedere nei dettagli le pagine sportive un Napoli che abbiamo visto un Napoli brutto un Napoli senza personalità un Napoli davvero incapace di vincere frutto anche di un momento di crisi che stanno attraversando gli azzurri un momento un momento no sono quattro partite il Napoli ha segnato un solo gol quello di Campagnaro di un difensore addirittura contro la Lazio all'Olimpico un Napoli che ha giocato contro una squadra che non è in quel di Pilsen che non è tanto famoso per il buon calcio che per una squadra calcistica ad altissimi livelli semmai per la produzione di una birra tra l'altro molto buona in Napoli rimedia solo figuracce è il titolo della Gazzetta fuori dalla Coppa dopo la clamorosa sconfitta al San Paolo anche trasferta va KO contro il Vittoria ed è giallo a Cavani sarà squalificato partita con qualche scintilla l'albero tiene al freno gli eccessi di agonismo e il nervosismo si spiegano così gli otto gialli tra cui uno quello che è andato a Cavani difesa si salva solo Gamberini Insigne e Cavani non incidono i peggiori sono Donatella, Berami e Pandeville Macedone che non segna da settembre ancora avanti il mattino Mazzari assicuro questa squadra si rialzerà subito sarebbe servito un gol nei primi minuti ma dobbiamo voltare pagina voltiamo pagina lunedì ci sarà appunto l'Udinese in una partita che Napoli deve vincere senza le gare di Coppa abbiamo ottenuto buoni risultati e noi ce lo auguriamo in vista dello scontro diretto con la Juventus il primo marzo in Napoli ha come primo obiettivo quello di saldare la posizione la sua posizione attuale ovvero il secondo posto noi concludiamo la nostra resegna con l'ultima notizia acqua chiara in emergenza contro il Recco assenti per infortunio Ferrone e Mattiello ammalato il coach Porzio prestigioso anticipo di campionato per la squadra napoletana arrivano alla Scandone i campioni di Europa è tutto per questa edizione è tutto per questa settimana la rassegna torna lunedì prossimo a partire dalle 7.30 un'ora più tardi alle 8.30 è davvero tutto vi auguro vi ringrazio di averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana arrivederci a lunedì aia minuscube puletana e un buon fine non aspetna di